Ciao a tutti, intanto grazie per essere venuti qui a questa iniziativa, in particolare grazie a padre Venturino che ci dà la disposizione alla sala e anche a tutti quelli che hanno organizzato la cena del povero, per chi è arrivato adesso è un'iniziativa molto interessante che va avanti da ormai 40 anni ed è un'iniziativa di sostegno, di solidarietà delle famiglie in difficoltà del quartiere. Abbiamo voluto legare questo evento a quello precedente, un po' perché come Movimento per la decrescita felice facciamo anche incontri accademici, però l'intento è quello proprio di organizzare delle iniziative insieme con i quartieri, con la gente in quei paesi. In particolare questa iniziativa è organizzata anche da un mio bio che è Maurizio qui, che è un negozio biologico che ha i prodotti qui in via Pio e visitatori. Il tema in effetti di questa sera è proprio l'alimentare, quindi alimentare nelle edulcorazioni, nelle maxitruffe che abbiamo tutti i giorni in nostro piatto e il contraltare, chiaramente parlerà di questo il giornalista della RAI di Capuzzi che ringrazio perché è di una disponibilità enorme, viene da Bologna direttamente e come contraltare a questo aspetto negativo del cibo che c'è, che bisogna conoscere, esatto, il buono e cattivo, c'è il buono che è rappresentato dal professor Daniele degli Innocenti, ricercatore dell'Università di Verona e nutrizionista, che ci parlerà agganciandosi ai temi di Luca del cibo che fa bene, quindi delle qualità organole che tiene intrinse, eccetera, del cibo. Come l'abbiamo pensato? Per me lo suggero perché è comunque un tema molto forte, abbiamo pensato di iniziare leggendo dei temi che Luca ci ha inviato e quindi con Paola Bellinato che è un'attrice ci leggerà dei temi che poi Luca commenterà. Per non stare dentro all'interno diciamo di un tempo che può essere un'ora, che abbiamo calcolato più o meno insomma con i dovuti suoramenti, anche perché poi ci piacerebbe molto che la parola fosse data a voi nelle domande, quindi negli interventi, quindi che sia una cosa, anche un evento che permetta lo scambio di opinioni e le chiarifiche su tutto ciò che non conosciamo o che vogliamo approfondire. Quindi per stare all'interno dei tempi chiederei ai relatori di stare all'interno di cinque minuti, non di più, perché così riusciamo a coprire un'ora, sono quattro bravi, quindi un quarto d'ora a testa tra tutti e tre e copriamo un'ora. Grazie ancora e la parola all'inizio a Paola Bellinato. Era agitato, molto agitato, soprattutto dopo che l'uomo davanti a lui aveva mostrato un lungo coltello da macellaio. Così il primo colpo ha solo sfiorato il fianco sinistro della vittima, ma non le ha lasciato il tempo di reagire. La peretta calibro 7,65 ha vomitato altri quattro proiettili in rapida successione, uno si è conficcato nella coscia destra, due nella schiena. Prima di cadere l'uomo si è girato. Negli occhi spalancati era rimasto solo stupore. L'assassino ha premuto di nuovo il grilletto, le ultime due ogive hanno centrato la gola e la spalla sinistra. È rimasto a faccia in giù, tra i filari dell'ambrusco a pomiglio, nella campagna di Reggio Emilia. Era la sera del 24 luglio 2002. Un lavoro ben fatto, eppure Biangiograzia, allora 39enne, non era un killer. Era solo un falchino, pergiunta nemmeno troppo coraggioso. L'uomo ammazzato, Ismail Jawadi, tunisino, aveva 28 anni e un obiettivo molto chiaro. Far sovi alla svelta in Italia. A fregarlo la smagna di denaro e la convinzione che i 7 milioni di lire guadagnati ogni mese, disossando prosciutti, fossero troppo pochi per le sue qualità. Ismail non voleva faticare, era molto sicuro di sé, pronto a litigare, con più lungo, ma si credeva troppo furbo. Così furbo da ricattare i titolari della DIMAC di Castelnuovo-Rangone, la cooperativa di Facchini, che lo aveva assunto per lavorare nei prosciuttifici del modenese. Buonasera a tutti, grazie a essere qui. Questo è l'inizio del libro che ho scritto insieme alla collega Maramonti, che si chiama Cibo criminale, ed è la storia che ha dato in là a questo viaggio del mondo del cibo e delle mafie che lavorano col cibo. È la storia di un facchino tunisino, messo a disossare prosciutti che aveva scoperto come venivano falsificati i prosciutti, cioè come veniva cambiato il bollo di provenienza sulle cosce fresche di maiale, il bollo che viene opposto ai macelli e che dice tutto di quella coscia, quanto tempo ha il maiale, dove è stato allevato, dove è stato macellato. Quando le cosce venivano importate in Italia venivano cambiati i bolli per una ragione molto semplice. La coscia fresca di maiale, che proviene dall'estero, ha un costo variabile a seconda della provenienza. Una coscia danese costa circa 40 centesimi al chilo in meno rispetto a una coscia tedesca e voi pensate che una coscia mediamente pesa 10 kg, cambiando un bollo si guadagnano 4 euro a coscia in un secondo. Sono macelli che trattano milioni di cosce, perché mi sono segnato il numero che ho mai in vivo a due anni fa e noi importiamo 67 milioni di cosci. Se voi pensate di moltiplicare 4 per 67 milioni, ipoteticamente falsificando tutte le cosce che vengono importate, capite che le cifre sono enormi. Perché si fa lo sbollo delle cosce di maiale? Perché l'arrivo, il punto di destinazione finale delle cosce sbollate è in realtà trasformare cosce straniere in cosce italiane, dove il guadagno, se si prende una coscia da mese e la si sbolla e la si fa diventare coscia italiana, quindi con la possibilità di stagionarla come prosciutto di parma, è semplicemente di 16 euro a coscia. Cifre enormi. Ismail aveva scoperto questo e voleva una parte di questo guadagno illecito. Siccome il giro d'affare è talmente elevato, per chiudergli definitivamente la bocca, prima l'hanno pagato, l'hanno pagato tanto, ma lui continuava ad alzare la posta, alla fine l'hanno ammazzato. Sono inciampato in questa storia quando raccoglievo materiale su un altro libro che ho scritto prima di cibo criminale, che è un libro di cold case, di delitti e risultati risolti. Allora, girando un po' le procura, un po' le caserne dei carabinieri per raccogliere informazioni sulle storie dei vecchi omicidi, un magistrato mi ha raccontato di questo delitto che però non ho potuto inserire nella mia raccolta di qualche perché era stato risolto, perché i colpevoli sono stati restati. Però ho continuato a frullarmi nella testa, perché questa vicenda non è semplicemente una vicenda di truffa alimentare e un omicidio. durante le indagini sull'omicidio di Ismail sono state scoperte molte cose, una delle quali ad esempio è che i guadagni illeciti, si parla in un anno di 1.800.000 euro solo per questa singola cooperativa, i guadagni illeciti sono finiti tutti in provincia di Napoli. Le persone arrestate per l'omicidio di Ismail erano due campani, a parte l'assassino che è un facchino che non contava nulla, era lo strumento, erano i vatici della cooperativa. Due campani, uno dei quali con precedenti di polizia per vicinanza ai carabinieri casalesi, e un siciliano il cui fratello era stato fotografato al matrimonio delle figlie di Elinzevillo, che è un boss della mafia di Cosa Nostra di Gela. E questo era il primo elemento che a un giornalista di Corona Carrera come sono io, ha fatto due sacre le antenne. Il secondo elemento era che durante le indagini sono arrivate da alcuni soci della cooperativa alcune telefonate per chiedere informazioni sullo stato delle cose da un telefono intestato alla presidenza del Consiglio del Ministro. Ma c'è di più. Durante le indagini è saluto fuori anche un appunto dei cosiddetti servizi di informazione, peraltro non sono che dei servizi segreti, in cui segnalavano che all'interno di questo macello in cui lavorava Ismail, la mafia siciliana riciclava denaro poi in interno di narcotraffico. Quindi tutti questi ingredienti hanno così solleticato la mia curiosità di giornalista. Da lì poi è venuto l'idea di vedere se quello che accadeva nel mondo dei posciuti accadeva anche in altri settori e abbiamo scoperto che in forme diverse ma con un uguale impatto per l'utente finale, per il consumatore, tutta la filiera agroalimentare italiana, quindi la filiera agroalimentare più importante del mondo, di maggiore qualità del mondo, è contaminata dalla criminalità organizzata e quindi tutti noi paghiamo qualcosa alla mafia ogni volta che ci vediamo a tavola. Non posso fare alcuna altra posizione, nel senso che è difficile parlare di qualcosa di positivo, faccio soltanto fare questa riflessione che poi per l'altro c'è in una parte del libro e cioè questo non è soltanto una frode nei confronti del consumatore che paga per avere un prodotto di origine italiana e non lo è. Il problema è che con questo sistema si rovina tutta la filiera perché ovviamente il prosciutto del genere ha un costo inferiore rispetto a quello che è il costo effettivo di produzione di un'azienda che produce prosciutti di qualità, la quale ha due alternative, o si adegua a questa scarsa qualità e quindi cerca in qualche modo di ritornare competitiva oppure chiude, quindi fate un po' voi le vostre riflessioni. Purtroppo il cibo è un qualcosa che ha perso di importanza una volta, nelle famiglie l'80% di quello che entrava in termini di denaro, veniva speso per comprarsi la montagna. Oggi siamo intorno al 15% e non c'è più una sensibilità tale, forse qua qualcuno ce l'ha, di spendere per la qualità del cibo. Purtroppo si ragionava prima che effettivamente i messaggi che riceviamo non sono orientati verso una ricerca della qualità di quello che si mangia, ma sono orientati a darci tranquillità in tutto quello che ci viene proposto. Poi ovviamente episodi come questi che sono stati raccontati nel libro, che poi vedremo ancora, hanno un impatto e poi magari con qualche altro prodotto diventa ancora più facile spiegarlo. Però siccome il cibo ha un'influenza importantissima sul regolare il funzionamento del nostro organismo, il fatto di comprare un prodotto per un altro, quindi io adesso non voglio fare un paragone fra un prosciutto danese e un prosciutto italiano. Vi dico soltanto che teoricamente dovrebbero essere fatti prima di tutto con delle razze diverse, su un regolamento del prosciutto di parla del San Daniela, con degli animali più grossi, che una volta all'estero non erano in condizione di fare, adesso li fanno. Voi tenete presente che sono animali comunque che sono alimentati e l'alimentazione è regolamentata da, sì, dei regolamenti europei, ma che poi ogni paese ha adattato alla propria situazione. Quindi se da noi ci si scandalizza se non c'è il mais o la soia dentro il mangime, in altri paesi se si vedono altri tipi di materie prime nell'etichetta del mangime nessuno si scandalizza perché dovete sapere che da quando i porti del nord Europa sono diventati delle, quindi si va dietro di qualche centinaio di anni, sono sempre stati raggiunti da materie prime di secondi, non dico di scartola, ma di seconda, tappioca, manioca, tutti questi prodotti arrivavano e arrivano ancora oggi nei porti del nord Europa e vengono usati per alimentare queste animali. Se andassero a leggere un'etichetta di un mangime olandese vi assicuro che non comprereste quelle cose. fra venti e trent'anni noi scompariremo nel mondo della legalità e godremo la nostra ricchezza senza paura. Quei due bambini che stiamo per battezzare oggi non dovranno mai commettere i nostri peccati e correre i nostri rischi. Sono le parole che lo scrittore Mario Puzzo fa pronunciare a Don Domenico Clericuzio all'inizio dell'ultimo quadrino, il romanzo che racconta la modernizzazione della mafia italoamericana. Fa di emergere dagli inferi dello spaccio di droga, del traffico d'armi e delle estorsioni del commercio di uomini e donne, 220 miliardi di euro ogni anno solo in Italia, è il grande problema della criminalità organizzata. Una partita che i boss stanno giocando da un oppositivo privilegio. La crisi ha indebolito l'economia, le banche si sono ritagliate un ruolo marginale puntando alla conservazione e strozzando le imprese. Il sistema è affamato di denaro, la mafia ne ha tanto e lo sa investire. Lo fa anche comprando terreni agricoli che rappresentano il 20% dei beni immobili confiscati. Il settore agroalimentare è appetibile per diverse ragioni. La dimensione delle imprese innanzitutto sono piccole, spesso a conduzione familiare, quindi più facilmente ricattabili. Oggi sono anche povere. I prodotti della terra che paghiamo cari nei supermercati non portano benessere ai coltivatori, ma solo agli intermediari. Per ogni euro speso dai consumatori per l'acquisto di alimenti, oltre la metà, il 60%, va alla distribuzione commerciale, il 23% all'industria di trasformazione e solo il 17% per remunerare il prodotto agricolo. Ciò rende il comparto particolarmente permeabile a una criminalità sempre più interessata a gestire l'intera filiera, fino a decidere che cosa arriva sulle tavole degli italiani e a che prezzo. quando mi hanno chiesto di mancare alcuni brani del libro per farvi riascoltare, ho scelto questo come secondo brano perché introduce il tema agromafie, che è un tema essenziale secondo me nella ricerca che abbiamo fatto con il cibo occuminale. Voi pensate che l'agricoltura vale, l'agroalimentare, l'agroindustria vale in Italia circa 150 miliardi di euro all'anno, sono più o meno il 10% del polvo interno all'ordo. L'agromafia è il 10% di questo. Secondo i calcoli di Coldiretti, nel 2011, quando abbiamo raccolto i dati per scrivere il libro, l'agromafia fattuava 12 miliardi e mezzo di euro. Questo era scritto nel primo rapporto Coldiretti sull'agromafia. Il secondo rapporto faceva già salire a 14 miliardi. Il terzo rapporto, che è uscito una settimana fa, un mese fa al massimo, e che è firmato dall'ex popolatore capo di Torino e di Palermo, Giancarlo Caselli, quindi uno che di indagini un po' se ne intende, quantifica il fattuato dell'agromafia in Italia a 15,4 miliardi di euro. Cioè c'è stato un aumento di 3 miliardi di euro in 4 anni. Nessuna azienda nel mondo ha fatto questo, forse nemmeno Apple. Questo vuol dire che la mafia ha una parte importantissima nella contaminazione e nel danneggiamento della filiera agroalimentare italiana, che è, ritengo io, l'unico settore sul quale il nostro Paese può puntare per risollevarsi economicamente. è il più grande giacimento che noi abbiamo, noi non abbiamo ferro, non abbiamo elettricità, non abbiamo materie prime. L'unico grande giacimento insieme alla cultura è il cibo. Il cibo rappresenta la principale attrazione per cui gli stranieri vengono nel nostro Paese. non vengono per il Colosseo, non vengono per la settimana della moda, non vengono per l'arena di Verona, vengono soprattutto per il cibo. Questo lo dice il Ministro del Turismo, non lo dico io. E ovviamente la mafia con un imprenditore preparatissimo si infiltra in tutti i settori in cui ci sia da fare sotto. Scordatevi la mafia con la coppola e la luparra. Scordatevi anche la mafia dei ragazzotti di Scampia o anche dei Q3 che non avevano stato anche qui a Verona poche settimane fa. La mafia oggi è fatta da manager, preparatissi, da commercialisti capaci di discutere tranquillamente con i fondi di investimento inglesi e nordamericani, è fatta da avvocati e ha scoperto nella filiera lago alimentare una grande occasione di business perché l'ha permeata totalmente. Se voi vi ricordate la rivolta dei braccianti nelle campagne di Rosano, in Calabria, un paio di anni fa, era una rivolta contro Andrangheta che gestisce il lavoro nero e il caporato nei campi. Se voi fate un po' su internet, il più importante mercato azofuticolo in Italia è il mercato di fondi in provincia di Latina, ebbene c'è un'indagine già conclusa che ha già portato a delle condanne definitive che ha dimostrato che l'intera logistica del più grande mercato azofuticolo italiano era in mano a un'azienda di proprietà di Francesco Sandrocan Schiavone, il capo dei campi ai Casadesi, che riusciva a gestire tutta la logistica non solo del mercato azofuticolo di fondi in provincia di Latina, ma da fondi fino a Messina. Grazie a un accordo fatto con due personaggi così di basso lignaggio come il fratello di Bernardo Polizzano e una coppia di imprenditori che sono questa nome di Torina per quanto riguarda la mafia siciliana, e un accordo fatto con la famiglia dell'Andranica Calabrese del Tripodo, che aveva un'azienda di autosporti che lavorava a fondi, ma che si hanno fatto marcia indietro perché hanno lasciato il punto in mano, per interesse, hanno evitato la guerra e si sono messi d'accordo, hanno lasciato tutto in mano i Casadesi. Quindi qualsiasi fogliolina, qualsiasi pomodoro di patino che si muoveva in Italia rappresentava un guadagno per i carri dei Casadesi. Il principale latitante mafioso in Italia in questo momento è, voi lo sapete, Matteo Messina De Nara. Allora, quando si dà la caccia a un abitante, c'è un sistema che in gioco si dice di togliergli l'acqua intorno, no? Fare terra bruciata, come si dice. Una di queste strade è cercare di aggredire il suo capitale, perché da un lato lo impoverisce economicamente, quindi lo rende più facile, dall'altro ne sminuisce il prestigio, quindi lo rende più facilmente tradibile, cioè è più facile trovare qualcuno che lo traduisca. A Matteo Messina De Nara hanno sequestrato, tra le altre cose, il 10% del capitale azionario di una delle più importanti catene di distribuzione, di grande distribuzione organizzata in Italia. Cioè, il mafioso, la mafia è la proprietà del 10% della despa. E quindi arriva anche sulla grande distribuzione, sia a partire dalla campana, dalla logistica, dalla grande distribuzione. Questa è la mafia nella guardia. Sì, sì, grazie, sei bravissima. Degli innocenti, allora, abbiamo sentito parlare di filiere di un certo tipo. Quali sono le filiere, invece, che producono il cosiddetto cibo che fa bene e che cos'è il cibo che fa bene? Cioè, come possiamo definire le qualità del cibo? E, ultimo stimolo, perché non ci sono i controlli, cioè la tracciabilità? Come può essere realmente messa in pratica per chi non lo fa? Per quanto riguarda il cibo che fa bene, diciamo, senza dover dare delle etichette precise, cioè dobbiamo partire dal presupposto che la salute la si costruisce negli anni. Quindi, il fatto di fare il cenone di Natale o la festa del primo dell'anno e mangiare a strafogo non è che comprometta la salute di nessuno, cioè la salute si costruisce nel lungo periodo. Quindi, se prevalentemente si mangiano cibi di ottima qualità, l'organismo viene regolato in maniera positiva. E questi cibi cosa devono avere? Devono avere, al di là del fatto che devono essere gradevoli, che diventa importante perché altrimenti non li mangiano, ci sono due qualità fondamentali. Quella igienica, scusate, due qualità fondamentali che sono trascurante. Perché quella igienica, in cui in Italia è un posto, un paese dove è estremamente elevato, è abbastanza riconosciuto il fatto che qua i controlli sanitari da questo punto di vista sono di altissimo livello. Le due qualità, quella sanitaria intesa come presenza di inquinanti, e l'altra, ancora più trascurata, direi quasi dimenticata, che è la qualità funzionale. La qualità sanitaria ovviamente la si fa riducendo l'impatto delle tecniche direi convenzionali, che usano molti mezzi chimici, da quelli che servono per fertilizzare il terreno, a quelli che servono per presidiare la malattia, le piante da malattie, da attacchi vari. Se ne fa un uso direi anche un po' inappropiato. In generale gli agricoltori hanno un po' dimenticato come si fa la ricampagna. E' più comodo, se arriva l'SMS dell'azienda che produce pesticidi, è più comodo accendere il trattore e poi qualcuno comincia a fare i conti e magari non li torna. Però questo tipo di problema è tanto più risolto quanto più si va verso regolamenti noti come biologici, oppure ancora più, diciamo, spinti. Per cui più si va in questa direzione, quindi più alimenti si mangiano di questo tipo e più ovviamente si riesce a ridurre il carico di queste molecole che sono nel nostro organismo. del carico che non è dovuto al fatto che queste siano fuori norma, il problema è che non esiste in Europa una norma sul multiresiduo. Cioè noi continuiamo a introdurre nel nostro organismo residui tutti a norma di legge. Il problema è che il nostro organismo se ne frega delle leggi e va un po' in difficoltà nel gestire queste molecole che tendono ad accumularsi. L'altra di cui parlo molto volentieri è l'aspetto funzionale perché nessuno è dimenticato questo. In realtà, se si va un po' indietro nel tempo, si vede che nella storia c'era molta attenzione all'aspetto funzionale perché chi produceva, quindi chi piantava, chi allevava animali, ovviamente lo faceva senza tanti mezzi tecnici a disposizione, quindi c'era una grandissima pratica fisica, e tutti mangiavano quello che coltivavano. Oggi, in un'azienda convenzionale, è possibilissimo che chi produce mais, frumento o frutta non mangi quello che produce, poi anche se lo produce, ormai si va a monoculture, quindi va a fare la spesa al supermercato. Una volta invece, chi produceva, sperimentava su se stesso, nel lungo periodo, una dieta, se era adeguato, quindi sperimentava ciò che mangiavano. E attenzione, dovendo fare molta fatica fisica, quindi dovendo andare su diete da 3200-3400 kV al giorno, vi assicuro che se uno non è ben sostenuto dal punto di vista funzionale, va in crisi. perché non ha sufficiente, non ha benzina, la benzina è energia, non ha sufficienti molecole per rispondere a questa eccessiva richiesta di fatica. Questa qualità oggi è dimenticata, non si è più selezionato a partire dal dopoguerra specie e varietà che avessero questo scopo, è stato dimenticato all'opera. e tra l'altro queste molecole, che si può chiudere, parlando a proposito dei 1700-1800 km del ciliegino di Pachino, con questo sistema, cioè la conservazione lunga, prolungata, di frutta, verdura, carne, ovviamente comporta un deperimento di queste molecole, che già nel prodotto convenzionale sono ridotte, quindi conservandole a lungo, oppure prendendo addirittura, cogliendo, come nel caso dei ciliegini, il pomodoro ancora non maturo e quindi aspettando che maturi per strada, è chiaro che si impoverisce meglio la pianta, non produce questa quantità di molecole, che invece produrrebbe, prima, se ha un po' di stress, cosa che non viene fatta, le piante non sono più un po' stressate dal sole, un po' dalla sensità, qualche attacco di qualche parassita, le piante non possono scappare, quindi si difendono con la chimica, producono metaboliti secondari che regolano il nostro organismo. Ma se non sono stressato, come può essere un mais in un campo, che ha tutta l'acqua del mondo, tutto l'azodo del mondo, è stato prima tolto a tutte le bacce con il diserbante, e poi se c'è qualcosa di strano, fanno un sacco di trattamento, voi capite che questa pianta non ha nessunissimo stress e quindi non produrrà mai metaboliti secondari. Ah, poi c'è l'altra sulla versatilità, ma magari l'altra le rispondono. C'era un po' di tutto nella pasta di formaggio. Un cliente tedesco aveva spedito le foto di pezzi di filo di ferro che gli avevano bloccato i macchinari. Ma Domenico Russo, siciliano trapiantato al nord, non si era certo preoccupato. Era abituato a macinare plastica, parti di confezioni di polistirolo, mozzarella con i verni o inquinate dai topi. Russo era un tipo intraprendente e tra Cremone e Novara aveva organizzato un'intera filiera. Alla trade S.R.L. riceveva gli scarti delle grandi industrie lattiero-casearie, mozzarella scadute, pane in acidita, provoloni abbuffiti, tutta merce che al massimo poteva essere trasformata in mangini per animali. La miscelava e ne ricavava un semi lavorato che poi inviava un'altra società, la Mega Spa. Qui avrebbe dovuto essere pastorizzata in realtà. Subiva manipolazioni solo superficiali eppure, quasi per magia, diventava un prodotto di prima qualità, destinato al consumo umano. Una terza ditta in provincia di Biella, la SICAL-S.R.L., era la discarica del gruppo, amministrata da un prestagnone, un compaesano di partinico iscritto all'ordine dei giornalisti, ma con precedenti per reati fiscali e frode in commercio. Era l'unica apparentemente irregola, perché doveva smaltire tutto ciò che non era più commestibile adeguandolo all'uso zootecnico. Funzionava però al contrario. Molto del materiale conferito dai fornitori tornava alla trade per essere riciclato, distribuito ad ordine italiane, spagnoli e tedesche. Finiva sulle tavole sotto forma di sottilette o imbustato come gran mix, la miscela di grattugiato. Non si può dire che Domenico Russo fosse di gusti difficili. Ha utilizzato anche porzioni di stracchino rosicchiate e provolone di quattro anni, così duri e neri da sembrare sassi. Nell'aprile 2004 i finanzieri hanno documentato l'arrivo di un lotto proveniente dal blackout elettrico del settembre 2003, cioè dieci mesi prima. Deve essergli sembrato particolarmente fresco, perché è stato anche capace di rimettere in commercio sottilette datate 1985, cioè 21 anni prima della perquisizione della Guardia di Finanza. Questo è stato il capitolo più divertente quello dei formaggi, no? Perché è veramente una storia più gustosa che ho seguito anche per la televisione. di prima di quella mi è rimasta il materiale che avevo seguito facendo dei servizi per Rai News24 e mi ero ottenuto sempre il materiale perché dicevo di questa cosa prima o poi dovrò riparlare, infatti poi ne ho riparlato nel gruppo. Tra l'altro voi sapete cos'è un editor, no? L'editor è una sorta di consulente dipendente dalla casa editrice che affianca gli autori e che così dà una prima letta a quello che l'autore scrive per vedere che non siano sostanziali discrepanze nel racconto, che magari un tizio non viene chiamato in un capitolo Giovanni e nel secondo Paolo o che non siano robe che proprio non stanno in piedi. E nel bozzo all'iniziale di questo capitolo che avevo mandato all'edito ai topi si sa piace il formaggio, per cui è normale che dove c'è il formaggio, adesso ve lo sostentizzo, ci siano i topi. Meno normale è trovare i topi dentro il formaggio destinati a diventare a loro volta formaggio. perché la prima azienda di Domenico Russo, quella che ritirava gli scatti, che poi sono gli scatti a grande distribuzione, no? A grande distribuzione d'olio dalle scaffali la sera precedente, il materiale che va a scadere il giorno dopo per evitare che ognuno di noi facendo la spesa si porti in casa una roba già scaduta, quindi deve tornare a cambiare, eccetera. Questa roba qui dovrebbe essere conservata in celle frigorifere e se rimane in dorso, cioè se non ammuffisce, se la confezione non è danneggiata, può essere riciclata per uso animale, altrimenti deve finire in discarica. Cosa succede? Succede che comunque anche la conservazione in celle frigorifere è più costosa del valore poi di recupero di questa roba qua, per cui nessuno la tiene in celle frigorifere. Il mozzarella come scade la mettono sui bancali e ci sono dei piazzali interi di bancali di mozzarella, povoloni, groviere che ammuffiscono al sole. Russo cosa faceva? Andava da queste piattaforme logistiche e diceva questa roba la dovete pagare, che se io, un euro al quintale per smaltirla. Benissimo, io vi do 10 centesimi al quintale che ve la vengo a ritirare, quindi voi risparmiate un euro, un euro lo risparmiate 10 centesimi, ve li guadagnate e ci fate una favore. Benissimo. E poi piazzavo queste confezioni su dei nastri trasportatori, che alla fine avevano una lama, quindi per la forza del nastro trasportatore la lama apriva le confezioni. La forza di gravità, quindi semplicemente la forza di gravità, doveva dividere automaticamente il formaggio dalla confezione. Vi dico che quando mi hanno fatto vedere le fotografie c'erano queste vasche enormi, pieni di formaggi marci, ma c'erano dentro anche ovviamente la plastica, il cellulano, il tirolo, tutto questa roba, perché la forza di gravità non esce scientificamente gli altri. Benissimo. E questo è un dettaglio. Tutto ciò comunque pieno di vermi, eccetera. Poi i capannoni senza finestre, per cui i piccioni che rimanero intrappolati nella pasta di formaggio. Tutto questo lui macinava tutto, veniva questa roba puzzolente che il camion mi raccontava da qui del paese, sentiva dove e quanto passavano. Tutto questo finiva in un'altra azienda e lui faceva il semi lavorato che poi molte volte rivendeva agli stessi grandi macchi che gli avevano dato la roba da smaltire. Quindi c'era sostanzialmente una condivenza anche se non è stata processualmente acclarata. Ci sono alcuni di quelli che mi hanno fatto causa dopo l'uscita del libro, ma vi dico che c'era sostanzialmente una condivenza. Un'altra importantissima condivenza l'aveva con i veterinari dell'Ause di Cremona, perché quando la finanza ferma di camion i veterinari hanno portato un certificato che il materiale era conforme al consumo umano. E il processo è ancora in corsa, Cremona quindi non ci sono condanne per il momento né per il russo né per i veterinari, ma ci auguriamo tutti che possano. Comunque è una storia incredibile questa, incredibile, queste informazioni perché si parla di centinaia di migliaia di euro ogni anno, centinaia di migliaia di euro ogni anno. I carabinieri del NAS di Cremona che hanno svolto una parte dell'indagine mi raccontavano che si erano nascosti in un cimitero vicino a Casal Puntano da dove si doveva l'ingresso posteriore dell'azienda di Russo per fotografare i camion che entravano, dopodiché più avanti venivano fermati. E da lì dovevano andarsi turni perché non riuscivano a resistere per lo dolore. Una delle operarie rumene, sentita come testimone del tribunale, che metteva queste confezioni di formaggio sui nastrasportatori, è stata ricoverata in ospedale per un'eruzione cutanea che l'aveva colpita in tutto il corpo, nonostante le seguanti, mascherine e tutto. Cioè c'era una roba che pure questa roba l'abbiamo mangiata, l'abbiamo mangiata per anni, tutti noi, perché lui serviva a tutti i grandi marchi, tutti i grandi marchi dell'industria. Allora il problema è che in realtà io non voglio fare del terrorismo. Cioè noi siamo comunque, e il professor lo può confermare, un paese che ha un sistema di controlli molto elevato. Cioè il cibo italiano è famoso nel mondo, ok, perché per la sua qualità organolettrica, cioè perché è buono, ma anche per la severità dei controlli. E noi siamo un paese salvere. Noi con il cibo che mi hanno abbiamo voluto dire che quel che si mangia in Italia fa schifo. Io assolutamente, sennò sarei molto più mago. Ma abbiamo soltanto voluto dire, voluto lanciare un allarme per dire, come diceva giustamente prima, in questo caso stiamo distruggendo, stiamo permettendo che qualcuno incisti una malattia all'interno del nostro settore migliore e al quale abbiamo dedicato tanta attenzione, tanta storia e anche tanti controlli. perché tutte queste truffe che noi abbiamo raccontato al cibo criminale, molte di queste truffe non sarebbero state possibili se non ci fosse stato una falla nel sistema di controlli, una connivenza da parte dei controllori. Grazie Luca. Una cosa importante ha introdotto Luca Ponzi e cioè la, diciamo, la sofisticazione dei cibi. dice bene Luca quando dice che i controlli sono elevati, in Italia molto molto elevati, però lo stimolo che lancio adesso è quanto questi controlli sono spostati verso il piccolo produttore o quanto verso l'industria. faccio un esempio. La comunità europea impone a chi fa il formaggio, tornando sul tema, la piastrellazione di tutto il locale dove si fa il formaggio. Quindi non abbiamo più i lieviti, quindi bisogna aggiungerli. Quindi questo da che parte è orientato. E poi un ultimo stimolo, quanto anche questo è colpa non solo dei grandi meccanismi, ma anche nostra, ovvero più che nostra, di ciò che ci hanno insegnato in questi anni, che abbiamo perso due generazioni di contadini, eccetera, eccetera, che adesso sono imprenditori agricoli. Cosa significa questo? Quanto riusciamo noi a riconoscere un formaggio edulcorato da un formaggio sano? Ecco, come il Movimento di Cristo da Felici, che sostiene questa iniziativa, anche se non l'ha organizzata, poi vorrei dare la parola a chi l'ha organizzata, insomma ha sostenuto anche i costi, cioè Maurizio Castelli di L'Omio Bio. Stiamo organizzando l'Università del Saper Fare, l'abbiamo chiamata. Proprio ieri abbiamo fatto il formaggio insieme, tanto per dire. Perché la cosa importante nelle persone è riprendere in mano i saperi, riprendere in mano gli odori, il naso, riprendere in mano cose che si siano dimenticate. Il formaggio è un bellissimo esempio da un sacco di risponde. La prima è questa, il formaggio, voi pensate a questo, allora il parmigiano reggiano una volta aveva un regolamento che fu cambiato un po' di anni fa. Una volta il parmigiano reggiano si poteva fare soltanto con il verde, cioè significa che l'allevatore doveva o buttare, portare gli animali al pascolo, oppure sfalciare l'erba e portare immediatamente il mangiatore. veniva un parmigiano leggermente giallino perché ovviamente la crofilla e i pigmenti presenti nell'erba andavano poi un po' a colorare il latte e quindi il formaggio veniva un po' più giallino. D'inverno non si poteva chiamare parmigiano reggiano, si chiamava vernego che ovviamente aveva un prezzo inferiore e veniva fatto con il fiero. L'inverno non c'è, veniva fatto con il fiero ma erano riconosciuti come formaggi diversi. Un po' di anni fa qualcuno ha avuto la bella idea di lasciare all'allevatore la scelta se utilizzare il fiero o il verde, come si suol dire, ovviamente è più comodo il fiero per cui nessuno ha dato più il verde al parmigiano reggiano. Sembra di per sé qualcosa che non ha nessuna differenza, invece vi posso assicurare che c'è un bellissimo lavoro fatto, pubblicato su una rivista piuttosto importante, dove hanno fatto vedere come due gruppi di vacche dal latte al pascolo scusate, in stalla, sono andati a misurare queste molecole funzionali in termini chimici in una categoria si chiamano terpeni, sono le molecole che aiutano a regolare l'organismo e in questi due gruppi il livello di questi terpeni era di 40 e di 50 o qualcosa microgrammi per kg di latte. Gli stessi gruppi poi sono stati portati al pascolo in due pascoli diverse. uno di questi gruppi è stato portato su un pascolo seminativo, cioè un pascolo seminato dall'uomo con lo stesso tipo di seme e i terpeni sono passati da 40 a 90, quindi c'è stato più che un raddoppio. L'altro gruppo, che partiva da 53 microgrammi, è stato portato su un pascolo polifita naturale, quindi un pascolo dove l'uomo non ha messo mano. Ebbene, i terpeni sono passati da 50 a 378, quindi 90 contro 378. Perché? Perché un pascolo polifita è fatto da piante che devono far di loro regolarsi, lo fanno con la chimica, con questi metaboliti secondari. Ebbene, tutta questa roba qua non la mangiamo più. Sono stato quest'estate qui sul Monte Baldo e c'era la responsabile di uno degli stabilimenti del Trentingrana. E noi facciamo il Trentingrana di Malga. Io lo guardavo e gli ho detto, ma non si trova in giro. E certo mi farei. In Italia non lo vendiamo perché è giallo. In Italia ormai il grano, il parmigiano, è bianco. E quindi lo vendono in Germania e in Austria. E questa è una bella storiera per dire come poi perdendo, non difendendo quella che era effettivamente la tradizione produttiva, ci siamo anche persi, voi fate conto, da 40 a 370. Ci siamo anche persi perché poi il parmigiano lo si grattava tutti, e lo si gratta ancora tutto sulla pasta asciutta. Voi pensate in un anno quanti di queste molecole non introduciamo più nel nostro organismo. L'altra cosa, non so se un po' così riprendo il discorso di prima, i sistemi per verificare questo, l'origine di un prodotto ci sono. Sono noti fin dagli anni Ottanta. Sembra quasi che siano all'interno di una nebbia. Questa nebbia impedisce a chi nella filiera vuole utilizzare un sistema che non utilizziamo noi ma lo utilizziamo in Germania, come dicevo prima. È un sistema che va a prendere l'impronta chimica di un prodotto, qualsiasi esso sia, carne, olio, liquido, solido, eccetera. È la risonanza magnetica. Questa risonanza magnetica è dagli anni Ottanta, e quindi si va indietro un bel po', con la quale si potrebbe sapere se un olio oppure un prosciutto, quello che si vuole, è stato fatto con una specie piuttosto che un'altra, con una razza piuttosto che un'altra, in quale zona è stato fatto, come è stato fatto, il tutto con un'altra zona. Ebbene, tutto questo, ormai sono anni che anche altri conveghi hanno provato a proporre in giro per fare che cosa? Per proteggere quei produttori che fanno qualità. se non sono effettivamente protetti, e qui il problema, se non sono effettivamente protetti, il settore è automaticamente debole. Il problema è che, vedete come si è perso l'abitudine di un parmigiano giallo, il problema è che si perde anche la conoscenza, come dicevi tu, di quello che mangiamo. E questa è una perdita che sembra che non avvenga. In realtà è iniziata in maniera feroce a partire dagli anni 70. Alla fine degli anni 70 non c'è più stato il passaggio culturale da una generazione a un'altra e c'è stato un dilagare di un sistema produttivo convenzionale, quindi si è persa un po' la tradizione di regole che si produceva, e quindi si è persa anche la conoscenza dei prodotti di una volta. Questo che cosa comporta? Comporta che oggi molti pensano di poter conoscere quello che si fa in campagna. In realtà non è così, perché voi pensate che se si riesce a prendere roba a marcia e lavorarla in modo tale da poter essere rivenduta alle aziende, anche se c'è ipotizzabile la condivenza, però sicuramente è un prodotto che non poteva essere né verde né giallo né viola, ma doveva avere l'aspetto di un formaggio. Ebbene a me è capitato, perché poi si sa anche che le frodi in commercio sono abbastanza diffuse, spesso quando faccio gli incontri con le persone mi chiedono eh vabbè è biologico, ma poi si sa che non si sa se è biologico o no. Effettivamente con questi sistemi si potrebbe da una parte difendere il consumatore, perché anche se si ritiene esperto, guardate io sono veterinario, sono nella figliera ormai da anni, vi assicuro che il gioco dei tre bicchieri, le corse alla pesa, un cartellino che gira, uno che non gira, guardate è facilissimo controllare chiunque, anche gli ispettori del biologico che sono dei professionisti e fanno un'ispezione fatta in un certo modo. L'ideale sarebbe poter prendere i campioni e andare a verificare. Tra l'altro quando uno sa di essere controllato, si deve tirare una bigonata da dire a qualcun altro che non lo controlla. Sempre così. Però purtroppo questi sistemi non si vogliono assolutamente utilizzare da una parte, ripeto, proteggerebbe la salute, la qualità funzionale di chi li paga e dall'altra, come si dice, proteggerebbe il produttore, perché se fa qualità questa gli deve essere pagata, la qualità costa. La qualità è qualcosa che non si raggiunge gratis, semmai è sudore, è saper farlo. Questo bisogna riconoscerlo. In una società che passa dall'80% di spesa per l'alimentare a 15%, insomma, qualche riflessione bisogna fare. E l'ultimo, l'olio. La normativa UE consente la commercializzazione di olio con marchi nazionali, ancorché con produzioni di origine comunitaria, purché sia indicata in etichetta la denominazione olio comunitario. La tuffa sta proprio qui. Smerciare un bene, spesso di bassa qualità, come italiano, per lucrare i danni dei consumatori e dei produttori onesti. I numeri sono inquietanti. In Spagna, un chilo di olio di ottima qualità costa 50 centesimi. Gli importatori italiani lo rivendono a 5 volte tanto. In Tunisia, primo esportatore di olio in oliva di tutta l'Africa e secondo paese del mondo per superficie coltivata, per ottenere un chilo di olio bastano 10 centesimi. In Italia, a seconda dei frantoi 6.000, ci vogliono 4-5 euro. 7 euro in centro-nord, 3,53 in Cuglia, 3,64 in Calabria. Sugli scappani dei supermercati, una confezione da un litro di un buon olio d'oliva extravergine, ricavato al 100% da olive italiane, non potrebbe costare mediamente al consumo meno di 6 euro. I margini, quindi, sono enormi quando si riesce a spacciare olio spagnolo tunisino come italiano. La Puglia è terra di olivi e di olio straordinario. Lo chiamano l'olio, l'oro verde. E per estensione e numero di imprese interessate è la regione olivicola più importante in Italia e nel mondo. A livello mondiale, il 12% dell'olio d'oliva è pugliese e con i suoi 369.000 ettari coltivati, rappresenta il 40% di quello del metriogiorno, quasi il 32% della superficie nazionale e l'8% di quella comunitaria. In termini di produzione, l'olio pugliese è il 36,6% di quello nazionale, su un fatturato e un comparto stimato in 750 milioni di euro, numeri che danno la dimensione e l'importanza del settore per questa regione. Ma la Puglia è anche terra di imbrogli. Soltanto le zone di Anglia e Ceniola hanno conosciuto un numero di truffe che non ha pari, riuscendo a vendere, come spremitura di qualità, un olio locale che invece veniva importato dall'estero. Fu scoperta qui, nel 2008, una delle truffe più significative degli ultimi anni. furono sequestrate 2.300 tonnellate di olio proveniente dall'estero, vennero effettuati controlli su 250 operatori, 20 furono le aziende coinvolti in tutta Italia. La cabina di regia del finto olio extravergine italiano al 100%, con interi scatoloni di documenti falsi, ancora una volta era un'azienda di Andria, la Basile S.N.C., che commercializza all'ingrosso elevati quantitativi di olio d'oliva, con un volume da fare di circa 50 milioni di euro l'anno. L'olio arrivava dai soliti osservatori, Spagna, Grecia e Tunisia. Acquistato come extravergine, miscelato con olio locale e, infine, rivenduto come prodotto italiano al 100%, non solo in Italia, ma anche all'estero. In parte veniva spacciato anche come biologico. Ora si attende alla sentenza del processo. A Cerniola si erano specializzati nel trasformare olio di semi di soia geneticamente modificato, importato dagli Stati Uniti, in olio d'oliva, aggiungendo qualche coccia di clorofilla per dargli una colorazione bionda e calda, e beta-carotene per adulterarne il sapore. Un'attività che in sei mesi era riuscita a fruttare 8 milioni di euro facendo nascere dal nulla il nobile, antiche tradizioni spremute ad olio e il frattoio, società fantasma, che vendevano a 4-5 euro un olio che acquistavano a 80 centesimi. L'indagine, condotta dai nasti vari, aveva portato a 39 arresti in tutta Italia, riuscendo a sequestrare le bottiglie prima che arrivassero sulle tavole e sugli scaffali dei supermercati in Germania, Svizzera e Stati Uniti. Allungare la base con un olio di bassa qualità consente di guadagnare almeno il 20% o più. In Italia, su 9 bottiglie che dichiarano di contenere olio extravergine, solo 7 lo contengono veramente e 2 non dicono la verità. Delle 7 bottiglie poi, 4 soltanto sono di olio extravergine italiano e 3 di olio extravergine estero. Naturalmente il tutto viene venduto per italiano, ha detto il presidente regionale della Confederazione Italiana di Agricoltori, Antonio Barile. Simili episodi, aggiunto, non fanno che danneggiare seriamente un comparto all'interno del quale operano imprenditori che hanno puntato molto sulla qualità del prodotto, qual è quello pugliese. Sì, avevo scelto il brano sull'olio perché quest'anno non sarà un anno tremendo per l'olio, meno 35% almeno di produzione, l'olio d'olio italiano. Quindi avremo ancora meno olio. Teneremo conto che il nostro è l'olio più pregiato al mondo e che già oggi è insufficiente, largamente insufficiente, non solo per il consumo interno che è elevatissimo ma anche per la richiesta. E voi capite che questo qua è un settore destinato a morire. Perché? Perché l'olio italiano vale perché è di grandissima qualità. Nel momento in cui perde, perché viene adulterato, sofisticato, allungato, come vi abbiamo raccontato nel libro, alla fine rimane un marchio che lentamente si svuota di valore. e quindi il settore dell'olio in Italia è destinato a scomparire. E se noi pensiamo che ha rappresentato in passato anche una moneta di scambio, quindi se pensiamo che importanza aveva, è una roba che mi ha veramente sconvolto quando abbiamo raccolto questi dati. L'altro motivo per cui ho invece indicato questo capitolo è perché è uscita la legge sull'olio, una delle poche leggi sensate, che tutela, quindi che permette la tracciabilità dell'olio, che obbliga la tracciabilità dell'olio in etichetta. E quando, durante l'attività di avvicinamento alla legge, sono stato invitato alla Camera, insieme a Mamma, con Cico Cheminale. Cioè il nostro lavoro è servito a favorire l'approvazione della legge sull'olio. E questo è, diciamo, da solo giustifica la fatica, la fatica di aver scritto questo libro ed aver preso 17 di file legali, che è l'unico guadagno che mi ha portato questo libro. Ed è la ragione per la quale non lo trovate oggi, in ristampa, in libreria. Perché alla fine i costi utilizzari sono spoppositati rispetto al guadagno dovuto alle vente del libro, ha ricavato alle vente del libro. Come l'olio, purtroppo, però sono a rischio altre fediere importantissime, no? Oggi si è smesso di coltivare il ciliegino perché conviene importarlo dalla Tunisia. Allora, il San Marzano, che è il pomodoro più famoso nel mondo, viene nel porto di Salerno, quindi nella zona del San Marzano, arriva il 97% del concentrato di pomodoro cinese. Allora, è chiaro che se, adesso non so qual è il prodotto tipico qua, se il Valpolicella, questa è la terra del Valpolicella, ma se qui si importa un vino simile al Valpolicella, c'è qualcosa che non va, no? Perché voi il Valpolicella ce l'avete già, è buonissimo, perché lo avete dato a compare dell'ambusco, Gramo, a casa mia? Scriverete il vostro Valpolicella. Quindi, se vi importate qua dell'ambusco, che fa schifo, rispetto al Valpolicella, vuol dire che volete farlo diventare un finto Valpolicella. Non c'è un'altra aspirazione, no? Io, a casa mia, ho il possuto migliore, il possuto di Parma è migliore, e, ovviamente, non vado a cercare un possuto belga, ma neanche un San Daniele vado a comprare. Ho il migliore io. Se io mi metto a comprare possuti stranieri a Parma, vuol dire che voglio farli diventare Parma. Cioè, sembra un'equazione molto semplice. Allora, quello che noi abbiamo voluto fare, appunto, raccontando la storia dell'olio, ma anche dell'altra storia, è dire, signori, signori produttori, signori consumatori, ma soprattutto, signori politici, e infatti l'abbiamo presentato anche alla festa nazionale PDI, l'abbiamo presentato appunto alla Camera dei Diputati anche in momenti, diciamo, istituzionali, datemi da fare. Perché poi, tra l'altro, molte di queste adulterazioni, il professore può darmi ragione, o può correggermi, sono regali. Perché è la normativa doganale comunitaria. La normativa doganale comunitaria dice che se alla realizzazione di un prodotto industriale hanno partecipato due o più paesi, quel prodotto può freggiarsi della denominazione d'origine di un paese in cui abbia subito una trasformazione sostanziale. Spiego, spiego, perché io ci ho messo del tempo a capirlo. Vuol dire che se io porto qua una coscia di maiale danese che non ha mai visto l'Italia ed è carne fresca di maiale, la faccio stagionare e diventa carne essiccata, carne stagionata, carne di maiale, quindi diventa un prodotto diverso, ecco, automaticamente diventa italiano. Io la posso vendere come puoi su tutto italiano, ma lo posso fare legalmente. Allora il problema non è più del singolo truffatore. Il problema è di una legge inadeguata, perché la legge europea è inadeguata? Perché noi non contiamo nulla in Europa, perché abbiamo usato il Parlamento europeo come discarica della nostra politica. Chiudo. Grazie. Due parole chiave, velocissime, Betacarotene e Cosce. Cosce ovviamente non di ballerine ma di maiale. Betacarotene, la stessa sostanza di cui ci narra Luca, che serve a giulcorare un prodotto e trasformarlo in un altro, quando è chimica trasforma l'olio di colza, di colza OGM, o lampante, che cura peggio, infatti, in prodotto vendibile. Allora, cosa significa questo? Il Betacarotene viene prodotto chimicamente. Ha un colore arancione e lo stesso colore dei fiori, di cui ci parlava il professore degli innocenti, che mangiano le vacche testate in montagna e che producono il latte che produce il parmigiano giallo. quindi vediamo che la stessa elemento, quando è prodotto chimicamente, ha una certa funzione. Quando è prodotto dalla natura, questo collega i due discorsi e da un filo al conduttore. le cosce. C'è un film bellissimo che vi consiglio. Potete acquistarlo, scaricarlo. Insomma, è in produzione da meno di un anno. Si chiama Resistenza naturale. È l'intervista dei Biodinamici del Vino Italiani, di un regista francese, dove uno di questi produttori, che ha anche il ciclo chiuso, e lui parlava degli innocenti prima, cioè per gli animali, il cibo che coltiva, eccetera, eccetera. E lui cosa fa? Fa un viaggio a Norcia. Come sapete, Norcia è la patria dei prodotti norcini, quindi prima di tutto il maiale. Ma cosa fa lui? Chiede, ma qui gli allevamenti dove sono? Gli allevamenti? Qua non c'è nessuno. Non esiste. Ma dove prendete? Ah, noi, al mercato dei panno. Ah no, ce n'è uno lassù, che racconta nel film. Doveva trovarlo. E in sostanza lo considerano mezzo matto nel paese, perché ha i maiali liberi, e poi non può neanche venderli al territorio, perché ha una coscia di dimensioni più piccole, perché il maiale italiano non ha quelli finissimi, a meno che non sia l'allevamento, quindi un incrocio, eccetera, eccetera. Questo è il paradosso dei prodotti italiani, che, insomma, dovrebbero essere il cosiddetto chilometro zero, poi un marchio col diretti, che dovrebbero essere locale. Ma dunque, l'olio, e l'olio è proprio un problema, che siamo capaci di fare in questo paese. e lì com'è con il vino. A differenza dell'olio, il vino effettivamente oggi è diventato una bevanda, quindi lo si beve perché piace, non perché nutre, e quindi a un certo punto posso anche scusare chi magari fa qualche mescoletto per fare qualcosa di estremamente gradevole. l'olio invece è un problema, è un problema perché è un condimento importante e perché effettivamente è, diciamo, è l'asse portante della nostra cucina, della cucina mediterranea. Quello che abbiamo fatto noi, questa è proprio una sperimentazione che abbiamo fatto qua a Verona, abbiamo provato a dare ai nostri topolini, sono ratti, diciamo, da laboratorio, delle bruschette con soltanto, diciamo, del pane in modo da avere la stessa quantità di energia. A un altro gruppo gli abbiamo dato delle bruschette con un olio extravergine di oliva italiano da 4,5 euro e un altro invece un olio propriamente detto extravergine di oliva italiano e poi si è usato dell'olio di cocco. L'olio di cocco si usava una volta per verificare l'efficacia delle statine che sono le molecole che servono per abbassare il colesterolo. si dava da mangiare questo olio di cocco ai ratti e così aumentava il loro colesterolo e allora poteva servire per vedere l'efficacia di una statina che poi ve la trovate nell'anacolo, questi prodotti nutriacenti. Per cui si è usato l'olio di cocco per vedere un po' se effettivamente si poteva patagonare questi quattro tipi di alimentazione. Quello che abbiamo visto, ovviamente l'olio di cocco ha fatto il suo lavoro, siamo andati a vedere come alcuni organi tra cui il fegato erano in sofferenza oppure no, abbiamo visto che l'olio di cocco effettivamente stressava un po' il fegato di questi animali e però abbiamo visto una bella differenza per i due oli extravergine di oliva che all'apparenza, sinceramente, se uno non se ne intende, trova anche buono, insomma, chi li ricostruisce non è uno stupido, sa come fare, quindi riesce a fare un olio che normalmente una persona non addestrava lo riconosce, ma anche quelli addestrati, ci sono quelli bravi che lo sanno fare bene. E però ecco, una volta che sono dentro l'organismo se ne accorge se è buono o no, perché si può mettere tutto bene la carotene che si vuole, no? Però, ritornando al discorso precedente, quando la pianta reagisce a uno stress esterno non è che produce una molecola, voglio dire, il vino non è che se c'è troppo sole produce il resveratrono, ma quando c'è luce produce una serie di molecole di cui quella riconosciamo meglio il resveratrono, produce una batteria di molecole che gli impediscono di andare in sofferenza per questo eccesso di luce. Ma sono l'insieme di molecole che agisce sul nostro organismo e quindi la differenza tra avere un principio attivo dentro un farmaco piuttosto che avere uno che si chiama fitocomplesso, cioè un complesso di molecole, è notevole da un punto di vista dell'efficacia sul nostro organismo. Per cui, ecco, l'olio a cittadino che io dico non solo fa sentire questa differenza, ma deve essere un complesso, cioè ci fa bene perché è un complesso di molecole e non perché contiene nell'olio cello l'europeina. Noi siamo un po' abituati da questo approccio riduzionista della scienza. La scienza deve fare un po' con una sintesi in un certo punto. Per cui è vero che abbiamo bisogno di molecole che ci risolvano certe patologie, assolutamente sì, ma per fare prevenzione non lo si può fare con una molecola, bisogna farlo con un comportamento corretto e soprattutto riuscire a scegliere, e queste sono le scelte vostre. E qui mi sento anche di insistere sul fatto che non si nasce imparati e non si impara se non si conosce bene la filiera. Non so se vi spiego. Perché chi lo fa di mestiere sa ingloriare chimici, ispettori, agronomi, lo sanno fare, come se lo fanno? Adesso non entro nel dettaglio, a me non so quando entrate in un'azienda cosa andate a vedere. Però ci sono tre o quattro cose che se uno dice di lavorare in un certo modo non può non avere e non può non averle lì, o non può non avere. Per cui ecco, bisogna anche sapere domandare e guardare al di là del prodotto. E' chiaro che un'analisi poi toglierebbe il tagliere del testo. Grazie Daniele. Questo è un tema molto molto interessante, si collega con la tracciabilità di cui parlavi prima. in effetti sono due i metodi di controllo. Uno è la tracciabilità tramite l'insonanza magnetica che se la facessero sarebbe un bene per tutti noi. E l'altro è il controllo del territorio. Non so se lo sapete, ma basta che guardate in internet si stanno sviluppando dei mercati locali, di aziende locali, a volte biologiche, a volte anche convenzionali. A Verona siamo in sei. di distribuzione locale di prodotti. Ma cos'è la cosa interessante? Non è la certificazione, perché dall'azienda al mercato mezza camionata di prodotto non coltivato, insomma, si può mettere quello del problema. Le certificazioni sono serie, però sono controlli in azienda, non sul prodotto, come si dice il professor degli innocenti, quindi sulla mela, sulla pera, sulla arancia e sulla costa. Ecco, quindi è facile anche imbrogliare. Qual è il vero controllo che il consumatore può fare? Queste reti che si stanno creando hanno anche dei gruppi di acquisto che risiedono vicino alle aziende della rete stessa. Quindi è il territorio stesso, sono gli stessi gruppi che talvolta vanno in azienda e controllano l'azienda, vedono che cose coltivano, vedono che attrezzi hanno, le cose che ci diceva degli innocenti. Quindi anche questo è un controllo, è un controllo forse più valido ancora delle certificazioni, è il controllo del territorio. Questo è il fenomeno che sta avvenendo molto, molto interessante. Ecco, prima di dare la parola, sono stati bravissimi i nostri redattori e Paola, siamo quasi nei tempi, insomma. Prima di dare la parola alle domande chiamerei Maurizio se vuoi dire due parole di cosa fai perché hai partecipato, insomma, attivamente all'organizzazione della giornata, insomma. Ma niente, è un'esigenza che avrebbero tutti di capire, cercare di capire come e che cosa mangiamo, possiamo mangiare laico, nonostante il posto dove siamo. La nostra curiosità è che vorremmo riuscire anche ancora a capire cosa possiamo mangiare, come possiamo mangiare, di cosa fidarci, di cosa no, assolutamente. Solo questo. Hai un problema di gare per darmi un anno? Sì, vabbè, quello sì, c'è un negozio, non importa. Se avete domande, volentieri. Tanto ci ringraziamo. Vabbè, calcolo, questo ragazzo è voi, ringraziamoci tutti, ok? e se avete domande, tipo il Beppe Luro vuoi. Vieni con me. No, Mario non si sente, poi stiamo registrando, vieni pure al microfono. Lui è un produttore che io conosco. Un'ultima cosa, prima che vedo che la gente sta anche uscendo, se volete, prima di uscire, Gianfranco, se vuoi metterti al tavolo in fondo, se volete lasciarci la mail, noi vi possiamo avvisare anche sulle iniziative che facciamo. Il martedì, per esempio, c'è un film di Viver senza il petrolio, gratuitamente, è un cineforo che proponiamo, eccetera, eccetera. L'Università è il Saperfale di cui vi parlavo. Se volete lasciare la mail, c'è Gianfranco che ci sta alzando, che può raccogliarci. Sì, io sono Mario Arciffa e sono un produttore abrilogo. E da vent'anni che sono a Verona faccio albicoltura biologica. Perché sono venuto a Verona? Perché giù non si poteva, non potevo sussistere come contadino. Le aracce venivano pagate a 20 centesimo al chilo, per cui dico qua, o chiudo, o chiudo, o faccio qualcos'altro. Allora ho pensato di andare, di venire qui, si è il suo inotto. Perché, giustamente come si diceva poco fa, sulla mafia, gli aglumi non sono... la mafia va su prodotti molto ricchi, però agisce attraverso le grosse distribuzioni, attraverso i grossi commercianti, per cui loro fanno il prezzo. e quindi sono sopravvissuto venendo qui a Verona. Giù molti contadini, molti produttori costretto 8 o 10 ettari di aglumenti, l'hanno dovuto vendere ai grossi commercianti, che sono poi collegati con la comunità organizzata. e siamo tutti sempre qui. Prendendo a Verona io comunque ho... perché? Perché io sono appassionato del mio lavoro. mio padre e mio amico mi portavano insieme a campagna. E faccio fatica a stare qui perché non ho la mia campagna. Però ci sto perché stare qua significa continuare a fare il produttore, a stare il condannino. Ecco, sulla domanda che facevamo all'inizio, no? Perché poi, professore, noi dobbiamo cercare, diciamo alcune cose. Se un maiale viene allevato in modo biologico, sempre carne, è chiaro che noi dobbiamo cambiare gli stili di vita. Perché produrre carne significa, per esempio, produrre un chilogrammo di naso significa consumare i 15 mila litri di acqua con un impatto ambientale stravolgente. Noi non pensiamo alle prossime generazioni. Il nostro pianeta è piccolissimo, eh? Le risorse sono quelle che sono. Se noi ne consumiamo con culture intensive, dall'agricoltura o in qualsiasi altro campo, noi non facciamo altro che uccidere le prossime generazioni. Quindi che significa mangiare carne? A parte il fatto che la carne crea nel nostro organismo un'acidosi bestiale dove si abitano tutte le malattie, dal colesterolo anche ai tumori, e non parliamo poi dei latticini che fanno malissimo. Queste cose sono le che bisogna sapere cosa consumare, cosa mangiare. perché noi non sappiamo che la carne ci fa male. Noi la mangeremo, la potremmo mangiare più oggi, ma sempre carne. L'impatto ambientale è enorme, è tremendo. Gli alleamenti intensivi fanno un male enorme al nostro pianeta. I cambiamenti climatici ci travolgeranno. Questo è il discorso che bisogna fare. perché se io mangio il pioroggio, ma se io mangio la carne e se io mangio il frumento che ha i vecchi grani, in Sicilia, dove la percentuale di glutine era molto basso, il glutine fa malissimo. Il glutine fa malissimo per quanto riguarda le articolazioni. Queste cose noi ci dobbiamo appropriare di come alimentarci, dobbiamo conoscere i meccanismi. per non parlare poi della condivenza che c'è con tutta la sanità. Noi consumiamo medicine, farmaci che sono tremende, qualsiasi fanno ben tremende. Ci sono dei business che sono enormi. Su chi? Sulla nostra pelle. Ecco, noi dobbiamo cercare di essere padrone noi stessi, di sapere cosa mangiare. Ecco, tutto questo. Quindi cerchiamo di essere... Ma io però non ando giù senza domanda, fai la domanda. La domanda è questa qua. Se mangiare carne, far meno all'organismo, anche se biologica, oppure anche mangiare latticini. Grazie. Mi collego a quello che hai detto per fare una domanda che io mi ha stimolato. Ma... bravo. Una domanda un po' elettorica, nutrizionista però... Se il glutine è corresponsabile dell'aumento di aderthie, geriatrie eccetera eccetera eccetera. Allora qua, per rispondere in maniera un po' completa a queste due domande, bisognerebbe fare una settimana di lezione. E non mi pare il caso. Se voglio darvi un po' una sintesi. Perché i problemi di salute non sono così semplici, così schematici come sono stati posti. Perché, vedete, parliamo di carne. Allora, sono perfettamente d'accordo che l'impatto ambientale di produrre carne è devastante. Da questo punto di vista non ci sono, ma i dati sono sul tavolo. Basta leggerli. Da un punto di vista etico, sono scelte personali. Quindi, se uno non vuole mangiare carne, è una scelta assolutamente individuale, secondo me, non giudicabile. Ma anche così come quello che mangia carne. A parte... Quello che mangia la carne, vorrei piantarsi in una roba nei mattatori di quello che succede. Ma certo, ma certo. Quello che dico è questo. Che oggi, vuol dire, se si va a comprare una lonza di maiale, costa 6 euro al chilo. Non è il suo prezzo. Cioè, quando si mangia della carne, bisognerebbe pagarla per quello che la ama. E quindi, dovergli dare il suo giusto valore. Si può vivere senza carne. Come? Si può vivere senza carne. Si può vivere senza carne. Tenga presente questo. Allora, la discussione è sempre se essere vegetariani o vegani è colpatibile. non certo che lo è. Ma lo è anche il fatto che, se voi prendete, non so, popolazioni in salute, come sono gli schimesi, stanno bene, mangiano soltanto carne. Non hanno altro, non mangiano carne. Attenzione, mangiano carne degli animali selvaggi. Se andiamo dall'altra parte del mondo, andiamo in Africa, ci sono i Masai. I Masai sono degli aletatori. Allevano degli animali, dei bovini. Che assomigliano un po' a qualche posto. Sono degli scheletri che viaggono. Perché il pastore tutt'altro è abbondante. Adesso io non vi voglio spiegare come fanno questi prodotti. li fanno il salasto e quindi si nutrono anche del sangue appena preso dalla vena immunale. Anche loro non hanno malattie croniche. Perché? Perché sono animali sì, allevati, ma con un allevamento, a virgolette per non vuol dire, perché l'allevatore non fa altro per portarli in quel povero in Pasquo che ci sono. Quindi direi che sono degli animali selvaggi. Se noi andiamo qua, su questo lago di Ibero, c'è un villaggio parafetticolo, e quei signori lì, di 10.000 anni fa, pescavano pesce, allevavano i maiali, tra virgolette, allevavano i maiali, e con questo sistema avevano da mangiare tutto l'anno, portavano cereali, quindi avevano un giro di abbondanza, perché nella nostra specie il problema è sempre stato quello di superare i momenti di calestria. e comunque sia, noi siamo proprio degli onniboli, voi pensate che le scimmie, se avete mai visto un punto momentare, prendono lo stecchino, lo ficcano nel termitalio, e si mangiano proteine animali, perché è un integratore. Se voi pensate a una vacca dal latte al pascolo, voi pensate che mangi soltanto prodotti vegetali? Una vacca dal latte al pascolo si mangia mezzo chilo di proteina animale tutti i giorni, non solo, ma si mangia anche un chilo e mezzo di terra, perché non è lavata. Quindi quando tira su, tira su berne, tira su lumate, tira su insetti, quindi effettivamente è un erbivo. Però ecco, l'integratore, l'integrazione animale non fa male. Se si va a vedere la differenza del crescimento del nostro ragazzo, che è vegetariano oppure mangia anche carne, e attenzione, anche carne, oggi purtroppo si fa esattamente l'opposto, mangia quasi esclusivamente carne, qua è il problema, ed è quella carne che dicevo io, è quella che acidifica, perché è l'eccesso di questa proteina. C'è un bellissimo studio di China Study che fa vedere appunto come i prodotti di origine animale sono correlati a queste malattie, però non entra nel dettaglio di quali tipi di animali o quali tipi di prodotti si sta parlando. Perché ripeto, ci sono popolazioni che mangiano carne e stanno bene lo stesso, non hanno malattie. Il fatto di essere vegetariano assolutamente è possibile, direi oggi come oggi, addirittura a salutare perché effettivamente poi si va a vedere la dieta mediterranea, guardate, la base è cos'è? Frutta e verdura, poi c'è ali integrali, poi si comincia forse a mettere un po' qualche integrazione di proteina, di che cosa? Legumi non li mangiamo più? L'italiano medio non mangia più legumi. C'è ci vuole un uomo al mezzo, quindi non si usano più. Piselli sficherati, questa ormai è la convinzione, quindi non si mangia più sta roba, per cui la carne, cos'era? Era quella della doppietta del contadino, cioè una volta i contadini giravano con la doppietta e se gli capitava la lepre, il fagiano o il cinghiale, insomma quella domenica lì era la domenica di esso. Perché era un'integrazione la carne, per noi è sempre stata un'integrazione. quando non lo è stata, fin dai tempi antichi, sto parlando degli egiziani, sono andato a vedere, hanno trovato i depositi di colesterolo negli un egiziani, visto che è genetico, non c'entra neanche l'alimentazione. Non considerando che i ricchi hanno sempre mangiato l'occidentale, perché i miele, oggi abbiamo il zucchero, sale, grasso in abbondanza, una volta erano cose estremamente rare, lo zucchero non esisteva, un po' di miele, e il dolce era soltanto quello della frutta. No, quindi non c'erano i ricchi di glicemia, però i ricchi invece avevano miele in abbondanza, cacciagione in abbondanza e avevano una volta il diabete. E di quello sembrava, per cui effettivamente è l'eccesso di questi tipi di nutrienti che fanno. ed è purtroppo, è lo standard dei paesi occidentali, è questo eccesso di proteine, di grasso, di sale. E l'altra cosa è sparita dalla nostra dieta, è la fibra. La gente, non è che con l'insalatina abbiamo preso la fibra che serve, oggi mangiamo dieci volte meno fibra di quello che mangiavano i nostri antenati nel neolitico, dieci volte meno. Guardate, è un'esagerazione. Perché? Perché quella fibra lì ha un'azione meccanica sul nostro intestino, ma soprattutto serve per nutrire la flora batterica intestinale. Ma questa flora batterica non cresce, così come la vacca non è capace di digerire il legno, la capra fa fatica a digerire il legno, non lo digerisce. La crusca in realtà è legno, ha un'azione meccanica, ma non nutre la flora batterica. Per nutrirla bisogna mangiare cereali integrali. Se voi sentite un'intervista da Franco Berrino dell'istituto di Veneno Tumori vi dirà mangiate cereali integrali e in questo caso, siccome poi questi prodotti devono essere conservati prima di andare a consumo, quindi in silo, sostoccati, eccetera, consiglia anche lui di mangiare questi cereali integrali biologici. Perché? Perché non ci sono pesticidi esterni di antiparassità. che va lui a glutine, dei sementi, dei ricordi, dei libri, no? E se riesce a chiudere, vediamo se ci sono anche qualche domanda per voi. Allora, per l'altro rigore del glutine, mi ricordo del Convento di Nutrizione Pediatrica di Grandi Quattro di Pippo Perverone, dove appunto il problema è questo glutine e il glutine è un meccanismo molto semplice, questa moleca, questa proteina che scatena il sistema immunitario. Ma la proteina è uguale in tutto il mondo del cereale. Il frumento ha quel tipo di glutine lì. Poi il cereale sono dei frumenti che ne hanno tanto e dei frumenti che ne hanno poco. Il problema non sta solo nel glutine. Il cereale è il cereale, c'è poco da fare, no? Però ci sono una serie di fenomeni di intolleranza. Ecco, gli glutine fanno male. Perché uno non è cereale, uno è intollerante, è diventato tollerante perché? Perché il glutine di oggi, a parte la quantità che ovviamente viene pensata per l'industria alimentare, non per chi deve mangiare, ma l'industria ha bisogno di glutine per fare queste robe, reglieri, canone eccetera, soffici, morbidi e così via. Quindi è finalizzato a quello e non è finalizzato all'utilizzatore finale. Per cui sono frumenti che ogni anno cambiano. Ogni anno ci sono dei libri di mobi che vengono piantati. E quindi di anno in anno si va sempre di più verso l'industria con questi glutini qua piuttosto che verso l'alimentazione. E in più non sono controllati, cioè non c'è solo il glutine, ma il glutine prima di agire come antigene, per sensibilizzare l'organismo, ha bisogno di coadjuvanti. Vi faccio un esempio. Quando fanno un vaccino non è che iniettano soltanto l'antigene, iniettano, vuol dire, si chiamano adjuvanti, cioè altre molecole che servono per presentare l'antigene al nostro sistema immunitario e per portarlo lì. Quindi deve essere presentato come una serie di signori che dice ecco guarda questo è il glutine, te lo presento, te lo porto lì e quindi l'organismo comincia a riconoscerlo. Queste molecole non sono trascurate, sono importantissime perché servono a far sì che il vaccino dell'influenza funzioni da vaccino. Cioè che scateni la produzione di anticorpi. Per cui queste molecole secondarie sono importantissime e queste non sono controllate. Non vengono nemmeno prese in considerazione. e queste invece sono quelle che possono spiegare perché a un certo punto una persona arriva a 50 anni e dice cavolo sono diventato allergico, sono diventato civile. No, è profondo. Grazie Daniele. Altre domande? Curiosità? Abbiamo avuto molti stimoli, il cibo insomma anche delle belle mattonate. prego, venga, venga signora. No, no, no. Volevo chiedere, chiedo da qua. Ma avere una, cioè per riuscire a capire qual è la nostra, una nutrizione ideale, come è possibile? Esistono dei, non so, ho sentito di parlare del centro tumore di Milano che dove si imparava a nutrirsi, dove insegnano la nutrizione anche naturale, non dico biologica, ma integrale, abbastanza vegetariana, insomma, per sostenere le persone e farle guarire un po' dalle loro malattie. Ma esistono dei centri dove si può imparare a nutrirsi, normalmente, bene, bene, perché tante volte si, anche tutti questi stimoli, queste cose che noi abbiamo ricevuto questa sera, poi come li integriamo nella nostra vita? Se è domani che si vanno. Eh, appunto. Sì, dunque, allora, c'è un po' di tutto, se poi si va in libreria si prende paura, perché sono dietro di tutti i tipi, fra un po' comincia la prova coltume, quindi, si comincia, si va. Allora, se voi fate, se si va, se si vuole capire cos'è che si sbaglia e i punti sono questi. Chiaro, che uno non nasce nutrizionista, però, dobbiamo ridurre gli zuccheri, ridurre i grassi, aumentare le fibre e ti dar via il sale. Sono questi quattro principi. Come si fa? Cioè, ci sono piramidi alimentari mediterranei da tutte le parti. Ora, io non mi dico di mangiare inuit, quindi di andare a cacciare le poche, perché non è il caso. ma, qua in Italia, è un maestro, super studiato, la strada mediterranea. Bisogna farla, però, con che combini. La base è frutta e verdura. E se andate sul sito dell'Istituto Nazionale di Interposizione, INPA, in Sicilia, ci sono proprio le porzioni al giorno. Tre porzioni di frutta, due porzioni di verdura, che significa che a pranzo, a cena, ci mettono un bel contorno, perché se andate a vedere le quantità non sono poche. Quindi anche l'insalata ha un bel volume. E poi, con questi tre, che di solito non si mangiano, almeno tre frutti al giorno. Che significa, non dico a fine pasta, ma perlomeno meglio se quando uno ha un po' di appetito, un po' di laguore si mangia un bel frutto. Poi dopo, la proteina, come la si usa? Usare prevalentemente quella di origine vegetale. Legumi, capisco che sono lunghi da fare, però ci sono anche tecniche abbastanza stupide. Il riso integrale, lo capisco, ci vuole un'ora e mezzo a cucinarlo, però se si fa in pentola a pressione, oppure si usa quello un po' più fine, un po' più piccolini che hanno bisogno di meno tempo, e quando è cotto si ficca sotto l'acqua fredda, si blocca lì la gelatinizzazione degli amidi, e quindi si può mangiare per due o tre giorni, basta scaldarlo un attimo. Quindi ci sono anche tecniche che permettono di cucinare senza perdere tanto tempo, cose un pochino più ostiche, come appunto i legumi e i cereali interminari. il concetto è che tutto questo, in queste proporzioni qui, relega i dolci e la carne, proprio la... E anche la carne bianca? Eh? O la carne bianca? Sì sì sì, meglio ecco, tra cani rosse e cani bianche, anche per il rispetto per l'ambiente, sono meglio le cani bianche. Poi tra l'altro, la differenza tra cani rosse e cani bianche, se voi prendete un pollo, ha una carne bianca che è il petto e una carne rossa che è la corsa. E sono due muscoli diversi, quelli del petto sono tipici di tutti i volati, cioè sono muscoli a contrazione rapida. Eh? Se potessero fare 100 metri, questi qui gregerebbero con Bolt, no? Perché è un muscolo molto... Si stanca subito, eh? Perché consuma molto. Però è a contrazione rapida. Mentre la coscia rossa è a contrazione lenta, eh? Quindi, eh? Non è così rossa come quella di un manzo, ma insomma, sono comunque muscolatore e è una muscolatore a contrazione lenta. Eh? Sono con pochissimi grassi. Quella rossa della coscia del pollo ha ancora meno grassi di una fetta di manzo, tanto per capirsi. È chiaro che se è un manzo elevato al pascolo, direi che ha un suo perché, nel senso che si arricchisce di tutte queste molecole e anche dei grassi che lui, eh, prende pascolato. Se no, vuol dire, tutta la guardia della macina, insomma, non è il massimo, il massimo della vita. In questo caso, un bel pollettino, eh, se lo devo comprare, invece di comprarlo tutti i giorni, lo compro, sono il fine settimana e me lo prendo di quelli che hanno un po' lo spazio. Ecco, qualcuno li fa, in giro, costano una tombola e costano meno del marzo, fatto bene. lì noi abbiamo fatto, quando prima abbiamo dato, sempre soliti, non è soliti, è un altro gruppo di ratti, abbiamo dato, eh, olio extravergine, oliva di quello serio, da mangiare, poi gli abbiamo dato della carne, come, come extra prego, diciamo, eh, poi gli abbiamo dato del formaggio, margarina, cocco, e abbiamo visto che, eh, ovviamente, il mal, l'alimento, che ha più capastanti, antiossidante, ovviamente, è, eh, l'olio d'oliva. Però abbiamo visto, con sorpresa, che, subito a ruota, c'era, c'è la carne. Però, la carne, che l'abbiamo dato noi, è la carne di chimena, che è un animale, che è molto lento, che è un accrescimento, che anche se gli fai qualche puntura, per farlo, crescere la svelta, è il suo solo, 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 e l'altro formaggio, è un formaggio, anche lui, è un ottimo donatore, gli metti, gli metti qui, un formaggio di fossa. E non quelli, non quelli, per cui ecco, eh, perdete del tempo, per andare a cercare, un po' questi prodotti, io capisco, e che ovviamente, la vita moderna, non permette questo, però, insomma, ci sono, bisogna metterci un pochino di voglia, ecco, cercare un pochino di, mangiare un po' meglio, sì, di andare a cercare, un po' questi prodotti, quando valgono, costa. Per spendere poco, bisogna fare, come base, frutta, verdura, cereali, del gusto. E i sul delatti, sono così disegni sul delatti, niente? Ma si possono usare, sì, sì, ma guardate, non è questo, non esclude, voglio dire, non è che l'alimentazione, se già incominciate a mettere, come base, frutta e verdura, anche se sono convenzionati, avete fatto già un passo. So se mi spiego, perché, come ripeto sempre, la salute non si fa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale. Quindi, se nell'arco del tempo, ci fico dentro, io non la chiamo prodotti a chilometro zero, ma le chiamo a tempo zero. Lui parlava giustamente di arance. Ci sono delle arance civile, che sono fantastiche, le sandinere, hanno delle capacità antiossidanti fantastiche. Non si trovano, perché la chef l'alice, cioè è molto breve, quindi la grande distribuzione vuole prendere meno in considerazione. Però, se non si organizza, arrivano cassette, si possono avere prodotti d'acquisto, e sono una meraviglia, perché quelle arance che sono... Bene. C'è una domanda anche per Luca, qui? Sì. L'ultima cosa che spiegaste, che penso sia importante, il discorso che sta succedendo in Europa, accordi tra America e Europa del TTP, che forse qualcuno magari non sa, e almeno sapere in che direzione si sta andando. Un'altra la faccio io, sempre a Ponzi. Quanto vengono per utilizzare i beni confiscati alla mafia? Allora, gli accordi, come sai, sono in discussione. è chiaro che sono uno step fondamentale. Bisogna vedere dove troveranno il punto di equilibrio, per non fare la fine dell'UTO, che alla fine ha permesso a un sacco di prodotti baloni di invadere l'Occidente, e non ha portato un'esportazione, perché noi il prosciutto ancora non riusciamo a esportarlo in Cina. Il problema con gli Stati Uniti è sulle carni stagionate, l'hanno appena sbloccato il crudo, credo. Il crudo l'hanno appena sbloccato, e con gli Stati Uniti secondo me riusciremo a raggiungere un punto di equilibrio anche a noi favorevole. Però allo stato attuale stanno discutendo, quindi non so come si concretizzeranno. E' chiaro che il problema è all'interno dell'Europa secondo me, cioè nel senso che noi abbiamo. L'Europa non ha una fonte comune, non ha un'idea comune, perché la differenza di interesse, ad esempio, fra chi fa il prosciutto di Bami, San Daniele e Noccia e gli allevatori di maiali olandesi è totalmente diverso. Tutti i maiali sono in Danimarca, Olanda e Germania. E tutti i prosciutti famosi nel mondo sono in Italia. Cioè c'è una situazione di interessi troppo grande. Per cui l'Europa fa fatica a fare affonte comune. L'altra domanda era... I beni vengono riutilizzati? Vengono riutilizzati molto poco, molto poco purtroppo. Ci sta dando conto da fare libera, ma questo per l'utilizzo dei beni confiscati è un grossissimo problema, che più che sull'agricoltura riguarda le imprese. Nel senso che l'80% credo delle imprese confiscate poi vanno in concordato e falliscono. Per cui ha un dubbio aspetto negativo questo. Il primo è sostanzialmente che impoverisce il territorio. Il secondo è che in certi territori arrivi a ragionare si stava meglio con la mafia, perché almeno uno straccio di stipendio c'era. Anche su questo c'è un'attività da parte di alcune associazioni come Libera molto intensa e c'è una resistenza invece politico-burocratica altrettanto dura da smuovere. e quindi il problema del riutilizzo dei beni confiscati è assolutamente fondamentale anche perché è l'unico vero modo concreto per combattere la criminalità organizzata per i cittadini comuni. Cioè noi lo strumento principi che ognuno di noi ha ad esempio per danneggiare la criminalità organizzata è comprare i prodotti di Libera Terra e delle altre associazioni e delle cooperative che utilizzano i beni confiscati perché appunto diamo anche questo segnale al territorio. Mi sembrava Dario? Sì, lo stavo con la città però ho letto la pensiera. In realtà il primo citato The China Study mi chiedevo quali altri testi autorevoli trattano l'argomento anche in maniera approfondita. Beh, come libri. Dunque, io consiglio sempre quello della Villa Rivi che è dell'istituto italiano Tumori scritto insieme a Berlino e diciamo inquadra il problema in maniera molto divulgativa ma rigorosamente scientifica. Sulle ricette un po' difficile perché chiaramente si va sull'esotico il cuoco e la cascina rosa si è un po' sbizzarrito per questo non è molto fu, tutta strada che per carità chi ha già un certo tipo di impostazione non ha problemi a cercarla, trovarla, conoscerla, sapere come cucinarla ma il resto, il 96% degli italiani non sa nemmeno che roba è. Per cui sulle ricette qualche problemino c'è. Però il libro della Villa Rivi è assolutamente impostato in maniera rigorosamente scientifica è chiarissimo e direi veramente posso dire proprio è rigoroso dal punto di vista su non si capisce molto bene come è il titolo il titolo si chiama adesso bisogna anche ve lo dico comunque è della Villa Rivi Villa Rivi ne ha scritto un paio un po' più vecchiotto che è quello che dico io e un altro un po' più recente dove ha messo allargato la parte riguardante le ricette adesso non mi va a nutrirsi non mi ricordo però ecco vi assicuro che la parte scientifica è fatta molto bene e non va quello un po' che amo io insomma il cibo è un il rapporto con il cibo è qualcosa di veramente complicato e poi soprattutto è un qualcosa di emotivo c'è tante emozioni dietro ogni tanto mi trovo anche con gente che mi guarda strano dicendo io sono frugivolo ma io non posso andare a dire la scienza purtroppo cioè chi è così magari ha rischio di diabete perché un pochino a mangiare dopo con il zucchero per cui c'è questo rischio qua però queste sono condizioni che sono difficili da tradizionare bisogna attestire su quello per evidenza scientifica e quindi anche quel libro lì non pur ovviamente incoraggiando come fa adesso l'eronesi il fatto di andare verso gli esseri vegetariani incoraggia però diciamo che sia l'unica strada sicuramente il problema della qualità funzionale quindi la presenza di residui e la qualità scusate la presenza di molecole utili e la qualità sanitaria sulla presenza di residui sono l'elemento che oggi sia una stadia da sballare piena di zuccheri di sale di grassi e niente fibra ci sta rovinando la salute soprattutto dei ragazzi ma guardate da partire del 2003 stanno nascendo generazioni che hanno un'aspettativa di vita in buona salute che si sta riducendo cioè questi ragazzi purtroppo avranno una salute peggiore rispetto a quell'egitto bene le ultime domande flash qui una domanda professore che relazione c'è tra alimentazione e malattie croniche e anche degenerative i poveri dicevano che il cibo è la mia medicina e il mio cibo cosa ne penserei? dunque allora il rapporto ormai è chiarissimo anche questo libro qua lo dice chiaramente cioè l'alimentazione è determinante per la prevenzione primaria cioè i medici insomma vi arrivano a casa le richieste di fare mammografia pap test test del sangue occulto eccetera quella è prevenzione semontale cioè si va a beccare le persone che purtroppo hanno già il problema per fortuna si prende in maniera precoce ma si va a individuare il problema la prevenzione significa ridurre la capacità la possibilità che queste malattie incidiano e le malattie croniche non trasmissibili alzheimer parkinson malattie anche circolatorie tumori diabete sono tutte malattie del grosso intestino eccetera sono tutte malattie che sono dovute all'alimentazione si potrebbero ridurre in maniera drastica anche del 50% poi pensate un diabetico su 2 potrebbero essere un diabetico se vent'anni prima avesse cominciato a mangiare bene altre domande altre domande magari da giornalista giornalista ne abbiamo due qua eccola qua sì una domanda da Luca Pozzi una curiosità dal suo punto di vista e dalla sua esperienza qual è la percezione dell'opinione pubblica sulle agromafie cioè sono conosciute c'è una diciamo così una conoscenza più o meno approfondita della tematica da una parte e dall'altra come viene comunicata anche dai mass media in maniera corretta approfondita oppure superficiale seconda domanda sugli strumenti se ci sono gli strumenti quali sono per se non debellare quantomeno limitare nel futuro magari appunto sconfiggere le agromafie quali sono gli strumenti secondo lei più efficaci che si possono adottare da parte delle istituzioni ma non solo giornalista allora devi dare il tu sai che qualcuno lì ci sta sempre il tu e no allora la percezione secondo me è molto molto bassa cioè se ne parla poi lo noterai se leggi giornali appunto due o tre volte all'anno un'occasione dell'uscita del rapporto di col direcchi dell'uscita del rapporto della FLAI e CGL sul caporalato e quindi se ne parla poco ma il pubblico non è nostro dei giornalisti non è solo nostro sono poco conosciute neanche a livello di istituzioni e a livello di autorità giudiziaria il problema delle mafie specialmente delle mafie al nord è un problema cultuale che è molto molto più profondo e più grave della non conoscenza da parte della gente cioè non è pronto neanche lo Stato io qualche una settimana fa non so se l'avete seguito ma sì perché ha avuto risvolti veronesi anche eclatanti l'inchiesta Emilia sull'andrangheta l'infiltrazione dell'andrangheta in Emilia Romagna e in parte il nord Italia la stessa costa che era egemone la costa di Arachia di Cutto egemone in Emilia Romagna aveva importanti relazioni anche politiche nella città di Verona giusto? l'avete letto sui giornali no? l'avete letto sui giornali e allora gli stessi nomi che sono finiti in galera il 28 credo sia stato il 28 gennaio comunque uno di voi giorni io e altri colleghi li abbiamo scritti vent'anni fa vent'anni fa a Parma a Reggio Emilia sui giornali locali di Parma di Reggio Emilia abbiamo fatto questi nomi Andracchi Sacone Muto tutti i nomi già scritti vent'anni fa allora l'altro giorno mi sono incontrato con il procuratore capo di Bologna e poco chiaramente gli ho detto ma se io il nome di Andracchi di Bologna l'ho scritto vent'anni fa perché lo restiamo oggi? no? allora lui dice io sono arrivato nel 2009 2010 ho iniziato l'indagine e nel 2015 ho messo dentro ma non è una provocazione che io ho fatto nei confronti del Dottor Alfonso che anzi a cui riconosco aveva condotto questi casi il problema è che questi qui sono territori che non hanno voglia di capire non hanno voglia di conoscere perché se tu hai seguito mai non so per chi lavori ma un comitato per l'ordino alla sicurezza pubblica ti capiterà di sentire il prefetto eh quello di Merola quello di Parma che non faccio nomi perché non li conosco lamentarsi dell'aumento dei frutti in appartamento lamentarsi dell'aumento dei frutti in biciclette alla stazione lamentarsi dei frutti che so io di cerchioni degli automobili non avrai mai sentito un prefetto lamentarsi dell'aumento dell'infiltrazione di attività organizzata perché? perché la mafia non fa rumore perché gli ultimi omicidi di mafia tra Emilia Romagna e Veneto e Basso Piemonte risalgono all'inizio dell'ultimo credo sia stato il delitto carcero a salso maggiore terme che deve essere del 2000 o del 2002 dopo di che il boss ha chiamato i due attori i due quello che ha mandato i killer e l'altro per cui lavorava la vittima gli ha detto dove poi gli omicidi si fanno d'estate quando venite in vacanza tutto perché su non dobbiamo fare rumore quindi la percezione non c'è solo della go mafia totalmente assente non c'è nemmeno la mafia c'è della mafia delle rivizie qua non abbiamo idea perché non vogliamo averla il problema di raccontare è un po' legato a questo tu sai benissimo che gran parte dell'informazione specialmente l'informazione locale ha degli editori che molto spesso fanno altro no? se nella compagine editoriale di un giornale locale figura un costruttore di che si chiami cooperativa o che si chiami singolo impresario farà fatica a farti scrivere che il nelle rivizie sei il caporalato o gestito dalla grande età perché è quello che ci vuole dare no? io mi ricordo tanti anni fa quando ho cominciato io che i giornali si stampavano col piombo a Parma c'è un prefetto che siccome c'è un giornale solo che era la gazzetta di Parma c'è un prefetto che poi ha fatto una grandissima carriera ai massimi livelli di istituzione italiana che si lamentava se per tre volte alla settimana uscivano utilizzando una rapina perché diceva si dà una cattiva immagine al città pochi anni fa se voi ricordate la puntata di che tempo che fa Saviano raccontò proprio della mafia nord e raccontò dell'unico caso di un imprenditore nato e cresciuto al nord condannato in via definitiva per la sostituzione delitto di stampo mafioso cioè per far parte della camorra questo imprenditore è un parbigiano due giorni dopo il prefetto l'allora prefetto di Parma dichiarò pubblicamente Saviano fa terrorismo la mafia a Parma non c'è sono passate quattro ore ogni cinque anni e le indagini hanno detto tutto il contrario quindi il problema non è solo del singolo cittadino che non ha contezza della mafia sono spesso anche distruzioni che non hanno contezza ci sono altre domande perché si sta facendo tardi una velocissima forse posso farla io a Luca quanto le tue diciamo i tuoi libri i tuoi scritti hanno influenzato anche delle trasmissioni televisive come report e come quella di Jacopo Jacopo guarda devo dirti che sto libro qua non mi ha dato un 2 ma mi ha fatto girare tutte le televisioni le radio i giornali d'Italia quindi hanno influenzato non hanno influenzato cioè chiaramente il mio primo direttore diceva non c'è niente di più inedito della carta stampata per cui ognuno di noi poi trae spunto dal lavoro ma sono come gli scienziati nessuno scienziato inventa nulla apprende elabora metabolizza migliora e lo stesso report ha fatto inchieste sull'alimentare prima di me e poi ha fatto recentemente inchieste che tagliano spunto anche dal mio lavoro ma viceversa io cito report come cito presa diretta c'è un po' una citazione intervista in onda la presa diretta fatta da una collega la stessa collega poi ha costruito una puntata con me ospite cioè non è io influenzo loro loro influenzano me facciamo lo stesso lavoro e le informazioni infortunatamente ci accorgono quantomeno fra i giornalisti che hanno un'alternata attenzione sensibilità vogliono fare vogliono che ti scomodi che non ti danno nessun guadagno in termini economici zero assolutamente zero solo voglio solo voglio solo voglio però ci sono sono vari si trovano insomma da da adabea alla gabanelli abbiamo fatto tante cose insieme grazie grazie penso che siamo alla fine grazie 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 grazie